In Alabama un uomo sarà giustiziato per la prima volta con la «maschera della morte» a nitrogeno. Il 25 gennaio Kenneth Smith, 58 anni. Condannato per un omicidio commesso quando ne aveva 23. Diventerà il primo uomo in America giustiziato con la «maschera della morte». Condotto nel braccio finale di un penitenziario dell'Alabama, legato a una sedia. Gli verrà allacciata al volto una maschera infernale. A ogni respiro, Smith rilascerà ossigeno e riempirà polmoni e cervello di nitrogeno. Un composto in odore, in colore, in sapore. Ma letale.